La prima volta che ci conosciamo, insomma, video dalla tua entrata in Armando Testa e porti tutto quello che è, insomma, Lab Digital, la creatività di un entertainment, videomaker che tu fosti, collaborazione con la Iene, insomma, capacità di guardare veloce, agile, snello e modo unconventional. Sì, hai già detto tutto tu, adesso non mi rimane più niente da dire. Eh sì, è tutta una parte che seguo molto volentieri perché nasce un po' da quello che ho cominciato a fare, il videomaker sul web e quindi è un mondo che conosco molto bene, che ha un suo linguaggio, che ha un suo humor, non sempre bisogna fare humor, però è la cosa che mi piace fare e che vogliamo, diciamo, dove vogliamo investire di più. Hai parlato di contaminazione, insomma, il media, tu uomo media, sei anche parte di questo hub digital, quindi creativi. Io, allora, Testa di Cilab è una società, io sono l'amministratore legato, ma l'amministratore legato, come voi ben sapete, in questo tipo di società svolge semplicemente la funzione di consolidatore e organizzatore di menti libere, che bene che rimangano libere. Magari aggiungiamo quegli aspetti di razionalità che l'esperienza ci porta a avere, e poi chi ha un background media probabilmente riesce ancora di più in questo business per digitale a mettere a posto. Questa nuova realtà, scusa, 20 persone, tra l'altro avete dato molta enfasi al talent scouting, parlato appunto di questi ragazzi berlinesi che fanno digital installazione, ma noi ormai ragazzoni, chiamiamoci. E niente, prosegue, quindi siete sempre alla ricerca, sempre aperti? Assolutamente, assolutamente siamo molto aperti, anzi usiamo questo microfono per dire a chi volesse entrare a bordo di una struttura assolutamente effervescente, dinamica, assolutamente innovativa, curiosa, aperta la tecnologia, di mettersi in contatto con noi tramite il sito di Armando Testa, qualsiasi sito delle società del gruppo, che molto volentieri siamo aperti alla ricerca di persone talentuose che possono divertirsi e aiutarci a divertirci. Ma dove va questo tipo di comunicazione? Insomma non c'è il rischio poi di creare sempre, di dover sempre stupire ulteriormente, che ulteriormente porti anche al paradosso dell'inefficacia, cioè come si riesce poi a legare il tutto a un obiettivo poi che è di comunicazione di un brand? Ma dunque la cosa positiva che c'è all'interno di Armando Testa è che c'è molta sinergia tra tanti direttori creativi, quindi quando si affronta una campagna c'è sempre una parte più razionale, una parte magari più fuori dei binari, cerchiamo insieme di creare l'operazione integrata più interessante possibile, quindi sono tante menti che si confrontano, è un po' la nuova formula di Armando Testa, abbiamo il media che ci dà una mano, abbiamo direttori creativi con diversi gusti, quindi cerchiamo come diceva anche Valentino prima in conferenza di contaminarci sempre di più. Senti com'è, ultima domanda sul media, sulla tua specializzazione, com'è la situazione oggi? Insomma leggevo che è veramente realtà come Google fanno... Sei assolutamente fuori tema, oggi non voglio parlare. Una battuta semplicemente, cioè c'è un nuovo modo, anzi bisogna vivere un nuovo modo anche in media? Beh, sarebbe... la domanda racchiude già la risposta, l'ho detto prima, quando Mark Zuckerberg era liceo c'erano già tutte le agenzie e i centri media che ci sono in questo momento, Mark Zuckerberg, così come Google ha rivoluzionato il mondo negli ultimi, vogliamo dire, cinque anni in Italia, prima in altri paesi, non ha veramente senso continuare a pensare così, come se questo... La disintermediazione appunto a cui questi due colossi stanno portando sempre più il mercato, fa paura oppure c'è un nuovo modo anche di inserirsi in questo new? Non capisco la domanda, la disintermediazione in realtà teoricamente c'è sempre stata la possibilità di disintermediazione, se parliamo di centri media, i problemi di centri media in Italia non si occupano di intermediazione, l'intermediazione è un qualcosa che succede fra le parti, io ho un volume d'acquisto, negozio questo volume d'acquisto e poi rivendo, con questo sistema in Italia non c'è, non funziona, non è questo il sistema con il quale si lavora. Con questi due, specificamente questi due player, o comunque con programmatic buying e quant'altro, sicuramente c'è una trasformazione molto veloce di questo tipo di business. secondo me in Italia non sarà così veloce, perché i player più importanti non sono interessati a questo tipo di evoluzione, o perlomeno non sono ancora interessati a questo tipo di evoluzione, per cui non mi aspetto che sia una cosa che succeda in breve, ci vorrà ancora veramente molto tempo. Il problema del programmatic è un po' quello della trasparenza, quello che stanno affrontando negli Stati Uniti e prima... Marco diceva che l'headline è il più colpito in questi due centri media. Esatto, io sono stato, ho passato un po' di tempo a Londra e New York nelle ultime settimane e il problema più grosso che viene affrontato in questo momento su quei mercati, in particolare con l'americano, è quello della trasparenza, perché il programmatic ha portato dei grandissimi problemi di assenza di trasparenza e problemi che noi in Italia abbiamo risolto ormai negli ultimi anni, ringraziando il cielo, li stanno affrontando in questo momento su programmatic, che è in questo momento veramente molto delicato, perché se bisogna switchare da un sistema e andare verso un sistema di programmatic, ci deve essere come postulato quello della trasparenza messo come un elemento fondante, perché se no rischiamo di andare, il mercato, qualcuno riesca ad andare in una direzione e può trovarsi con veramente problemi molto più grossi.